Si è divertita ieri sul set? Non lo so. Mi passi la pistola? La pistola? Il compressore. Questo? Mhm. Perché a me non piace stare ferma senza fare niente. Poi se non fai niente non capisci niente. Ma c'è una cosa che mi ha colpita. Cosa? Quanto ci vuole per fare una sola scena? Un giorno è... è da pazzi. Ma almeno un film dura per sempre. Per sempre? Il film dura fin quando c'è qualcuno che vuole vederlo. Tu lo ami per sempre? Non lo so. Lo amo quando lo faccio. Poi provo una specie da fette e poi devo farne subito un altro. Io invece ti amerei per tutta la vita. Carina. Grazie a tutti.